Ciao ragazzi, come vi avevo preannunciato e promesso, Spazio Games si sta per trasferire in un nuovo ufficio, più grande, a Monza con la fibra ottica, insomma ci saranno dei grandi cambiamenti e sono qui oggi per mostrarvi il cantiere, cioè insomma cosa sta avvenendo qui nelle fasi di costruzione dell'ufficio. Ora siamo entrati in quello che sarà il nostro ufficio, ve lo mostro subito, come potete vedere abbiamo degli spazi molto più grandi rispetto a prima, c'è un grandissimo salone con delle finestre molto 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 grandi, abbiamo finalmente i condizionatori, cosa che migliorerà tantissimo la qualità della nostra vita, anche perché adesso dove siamo si muore di caldo. Poi abbiamo un locale tecnico che non vi mostro perché sono cose molto noiose, comunque c'è il pannello per l'elettricità, la caldaia, eccetera, eccetera, eccetera. Poi abbiamo uno spazio dove metteremo il frigorifero, il forno a microonde, insomma un'area ristoro, abbiamo naturalmente anche l'ufficio di pregianza e poi questa sarà la nostra nuova sala dedicata alle dirette, che come potete vedere è costituita da una stanza molto molto più grande rispetto a prima e finalmente abbiamo delle luci professional che ti distruggono la retina se le guardi direttamente, quindi insomma un grande salto in avanti anche da un punto di vista qualitativo per quanto riguarda le immagini e infine questa è la grande novità, avremo uno studio di registrazione per i doppiaggi delle recensioni e altre attività nuove che non abbiamo ancora annunciato ma che abbiamo in programma e che renderanno Spazio Games ancora più grande e più bello rispetto a prima grazie alle dirette e a tante altre cose che avverranno nel corso dei prossimi mesi. Bene, non passo sotto la scala perché porta sfiga. Quindi insomma questa era un teaser, un assaggio del nostro nuovo ufficio, il trasferimento è previsto per metà settembre circa, a seconda di come va la burocrazia e di come vanno le luci che come potete vedere mancano ancora, ci sono dei buchi nel soffitto, ma insomma siamo molto felici e a breve ci vedrete qui nella nostra nuova sede, naturalmente ci sarà anche un video per inaugurare il tutto. Alla prossima e buona estate!